La scuderia campione del mondo di Formula 1, la Braun GP, correrà la prossima stagione sotto l'insegna della Mercedes. Dopo 14 anni di partnership, la casa tedesca ha lasciato la McLaren per acquisire la maggioranza del team che ha conquistato entrambi i titoli ridati nel Mondiale 2009. La nuova scuderia si chiamerà Mercedes Grand Prix, come ha spiegato il vicepresidente di Mercedes per le attività sportive, Norbert Haug. Innanzitutto devo dire che questa è una grande giornata per noi. Inizieremo una nuova stagione del Mondiale con una nostra scuderia, la Mercedes-Benz Grand Prix, e qualcosa di speciale. Saremo più efficienti e abbasseremo i costi. Non posso giudicare quello che stanno facendo le altre squadre, ma una cosa è certa, la Formula 1 per noi è un palcoscenico importantissimo. Quest'anno le frecce d'argento hanno compiuto 75 anni. Abbiamo un grande patrimonio e proseguiremo in questa direzione. Il distacco dalla McLaren avverrà in modo soft. È stato annunciato che la Mercedes le fornirà motori fino al 2015. È stata una separazione indolore. La McLaren è forte, come lo è sempre stata, e non ci sono piani per interrompere il rapporto in un prossimo futuro. Abbiamo vinto tre mondiali piloti, due volte con Huckinan e una con Hamilton nel 2008. Siamo stati una volta campioni del mondo, tra i costruttori, e siamo stati dieci volte secondi, concorrendo per entrambi i titoli. È stato un matrimonio di grande successo. Negli ultimi 12 anni, dalla prima vittoria nel 1997, abbiamo vinto 60 gare. In 1997, abbiamo vinto 60 gare.